Antonella Clerici rompe il silenzio, dopo l'operazione, l'annuncio shock del medico. Ciao a tutti! Sapevate che Antonella Clerici ha recentemente subito un intervento chirurgico che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta? Sì, è stato davvero una sorpresa! Restate con noi, perché approfondiremo cosa è successo e cosa ha detto il suo medico. Allora, iniziamo! Antonella Clerici, la famosa presentatrice televisiva italiana, è stata al centro dell'attenzione ultimamente. Dopo il suo recente intervento, tutti parlano della sua salute e dei suoi piani futuri. Oggi siamo qui per raccontarvi tutti i dettagli sul suo percorso di recupero e le notizie scioccanti che sono appena emerse. Tutti conosciamo Antonella come la simpatica conduttrice di diversi programmi di cucina, ma il suo intervento ha destato parecchia preoccupazione. I fan si sono subito chiesti cosa questo avrebbe significato per la sua carriera e quando avrebbero potuto rivederla sullo schermo. I social media si sono riempiti di messaggi di supporto, ma anche di preoccupazioni. Alcuni fan erano davvero ansiosi, mentre altri le mandavano tutto l'affetto e gli auguri possibili. C'erano persino speculazioni nei media su cosa fosse l'operazione, il che ha solo alimentato il dramma. È stato un momento difficile per lei, ma si è sentito davvero l'affetto dei suoi follower, che erano ansiosi di ricevere aggiornamenti. Quindi, cosa è successo esattamente durante l'intervento? A quanto pare, Antonella ha subito una procedura che, sebbene seria, è abbastanza comune. I suoi medici la stanno monitorando attentamente e hanno condiviso che il suo processo di recupero sta procedendo come previsto. Tuttavia, ci sono stati alcuni sviluppi inaspettati che hanno sorpreso tutti. Antonella è intervenuta sui suoi social per rassicurare i fan, condividendo momenti del suo recupero e anche alcuni retroscena. È stata una montagna russa di emozioni per lei, ma è stata incredibilmente aperta riguardo al suo percorso, il che ha fatto crescere ancora di più l'affetto dei suoi fan. Abbiamo potuto vedere il suo senso dell'umorismo brillare anche nei momenti difficili, il che ha tenuto alto il morale. Ed ecco arrivare la grande notizia! Recentemente, il medico di Antonella ha fatto un annuncio sorprendente riguardo al suo recupero. Ha dichiarato che si sta riprendendo più velocemente del previsto e ha lasciato intendere un possibile ritorno in TV prima di quanto ci si aspettasse. Questa sì che è una notizia. I fan erano entusiasti. E questa notizia ha cambiato la narrazione, passando dalla preoccupazione all'eccitazione. Già si specula su come sarà il suo ritorno. La rivedremo forse in cucina a preparare deliziosi piatti per noi? L'attesa è palpabile. Per concludere, Antonella Clerici si sta riprendendo, e l'annuncio del suo medico ha dato a tutti la speranza di un rapido ritorno sul piccolo schermo. È stato un percorso difficile, ma con un sistema di supporto così forte e la sua stessa resilienza, sembra che sia sulla buona strada per tornare a fare ciò che ama. Non vediamo l'ora di scoprire cosa ci riserva il futuro per lei. Cosa ne pensate della situazione di Antonella? Siete entusiasti del suo ritorno? Lasciate i vostri pensieri nei commenti qui sotto. E non dimenticate di guardare gli altri nostri video per ulteriori aggiornamenti sui vostri VIP preferiti. Alla prossima!